FAST è una federazione delle associazioni scientifiche e tecniche che ha lo scopo di diffondere cultura tecnico-scientifica a livello nazionale e a livello internazionale. È una federazione storica perché è stata istituita nel 1897, abbiamo sede a Milano, abbiamo anche un centro congressi dove svolgiamo centinaia di eventi all'anno. I nostri eventi sono organizzati anche in altre sedi nazionali e anche internazionali. Attraverso FAST Ambiente Academy riusciamo a organizzare diversi eventi su tematiche ambientali, tra cui il trattamento delle risorse idriche, le emissioni atmosferiche, abbiamo altri temi come le bonifiche, i rifiuti, le autorizzazioni ambientali, i sistemi di gestione ambientali e altre ancora. Attorno a FAST Ambiente Academy si è creato un network interessante di aziende pubbliche, private, università, professionisti, ricercatori e tecnici che sono interessati tutti quanti a collaborare con noi al fine di diffondere la cultura e soprattutto a proseguire gli obiettivi di principi di sviluppo sostenibile e dell'economia circolare. Tra l'altro le nostre iniziative possono erogare crediti formativi e professionali perché siamo provider autorizzati del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e del Consiglio Nazionale dei Chimici. In più collaboriamo anche con l'Ordine dei Geologi, con gli ordini degli agronomi, forestali e in alcune fasi anche degli architetti. Ci auguriamo che la partecipazione a fare i conti con l'ambiente sia un'ulteriore occasione per ribadire il nostro impegno nel sviluppare la cultura, sullo sviluppo sostenibile e dare un supporto a tutti coloro che sono interessati a queste tematiche importanti per il nostro futuro. Grazie a tutti.